Ah, che freddo. Ma questa è una tomba, grazie. Portiamolo fuori. No. Aprite. Guardate. Dio mio, allora è vero. Ho preso vita, santo cielo. Alessandro, fai accendere dei grandi fuochi. Portategli da bere. Io sto osservando e non finisco mai di meravigliarmi. I predoni! Allarmi! I predoni ci uccideranno tutti. Allarmi! L'uomo che ha provocato la nostra sorpresa è qui. Guardandolo tu potrai giudicare se giusti furono i motivi che ci hanno indotto a portarlo alla tua presenza. Se è vero quanto mi hanno raccontato costoro devi essere un uomo dotato di poteri eccezionali. Su, alza. Su, alza. Su, alza. Si è alloggiato in un luogo appartato. Lo zar Nikola Nikolaevich annuncio che tra poco entrerà in questa piazza maciste l'uomo dalla forza di cento giganti. Se la gode lo zar? Quella tragica marioletta. Un momento. Che succede? Ho accettato quanto mi è stato ordinato. Prima però chiedo allo zar di ascoltare una mia proposta. Prima. 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 E' un liquore prezioso e viene servito in circostanze particolari. Tieni. Ma cosa è successo ? Hanno tentato di ucciderti. Dove sono ? Te lo dirò poi. Ora non c'è tempo. Dobbiamo andare. C'è bisogno di te. Tutti i nostri amici corrono. Grave pericolo. Presto. Guardia ! Correte ! Vigliocchi, uccidetelo ! Prendetelo e giudicatelo secondo le vostre leggi. Grazie, amici. Un momento. Allora, voi proprio lasciate. Sei ancora in tempo, pensaci. Quanto hai fatto per noi merita un compenso che noi forse non saremo mai in grado di darti. Ma se la riconoscenza degli uomini vale ancora qualcosa, allora... Tu mi commuovi, amico. L'affetto che ormai provo per tutti voi mi spingerebbe a rimanere. Ma devo andare in altre terre dove i deboli hanno bisogno di aiuto. E' questa la mia missione. Addio, amici. Addio. Aspettami. Portami via, ti prego. Non posso. La mia vita è dura, piena di pericoli. Li dividerò con te. Allora, vieni. Allora, vieni. A presto! A presto!